La Roma a questo punto della mia carriera è l'ennesima sfida, forse l'ultima se penso a un calcio estremamente competitivo come quello europeo, come quello italiano e quindi arrivo qui a Roma con un grandissimo entusiasmo e con una grandissima voglia di far bene. L'obiettivo fondamentale è quello di riportare questa squadra e questi colori alla partecipazione in Europa per dare un profilo e un lustro a una società così importante che merita di poter competere a livello europeo. In questo momento la Roma venga considerata un attimino al di sotto della Juventus e magari anche del Napoli, però io sono assolutamente fiducioso per aver conosciuto l'allenatore, i miei compagni di squadra e tutta la struttura, il contesto della Roma che lavora con e assieme alla squadra, che si possano fare delle cose importanti. Non ci saranno mai mancanza di risultati per motivi tecnici e per motivi tattici, perché la squadra è forte e l'allenatore è bravo. Quello che è l'obiettivo sin da subito è di costruire una mentalità di squadra forte, vincente e compatta. Credo che per quello che riguarda soprattutto il rendimento delle ultime due stagioni sia avalso molto questo tipo di discorso. Cioè è mancata prima la squadra piuttosto che i portieri.